So, dovrei avere un gruppo, ma per mantenere bassi i costi e per rimosciarmi, io sono venuto a trovarmi fino a qua, e per non alzare il costo del biglietto, se no, sa quanti soldi mi costavano se devo venire con un bassista, un batterista, e tutto qua. E poi, sicuramente, molto del mio pubblico gli avrebbe sfasciato tutti gli strumenti, e poi a fin tocca di pagare gli strumenti, a me, a me, a me! Comunque a questo punto ho un pezzo di successo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!